Abbiamo presentato oggi tre musiche, un da letto l'altra. La prima musica è del 1400, la musica di Piotrata, sentirete subito una cosa di strada, una modalità, è anteriore alla grammatica che usiamo, la grammatica di Piotrata. E se parlassimo di la lingua spettacolica, facciamo dire in latino. E' un po' un analisi, il discorso che facevo prima, si cantava, nonostante si chiami il popolo analisi, che si cantava in giorni da 2019, nel 1900. Poi la seconda musica, sono i piaci delle campagne, e il tema molto famoso, è una musica del 1700 con parole migliorali. Le parole non le sentirete perché suonano bravo, non le cantano. E la terza musica, di cui è più uscita da guerra, è una canzone del 1944, perché Papa Noel, il piccolo Papa Natale, che venne richiesta a Andrea Martini, che era autore, da un papino che, con una tua manchietta, dalla guerra. Poi è stato un straordinario successo, nel 1946, messo sul disco, inizio a citare le canzoni di Natalisa, è nata in realtà una canzone di lui, che viene proprio papà, proprio dalla situazione della regola di Natalisa. di Natalisa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.